Fra le mie braccia dormirai serenamente ed aiutare anche questo sale per sentirci pienamente noi un'altra vita vincarai nel corpo nostro e la mia montagna il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Oggi è una gioia grandissima per me personalmente sia perché questi due giovani che fanno parte di questa parrocchia vivono, vogliono vivere la loro vita in Cristo ma la mia gioia non è soltanto la mia gioia è la gioia di tutta la comunità comunità degli amici, dei parenti delle persone che li vogliono bene perché appunto ecco tu Saverio, tu Valentina ecco volete far sì che il vostro matrimonio viva nella luce di Cristo e allora l'augurio più bello che ti posso fare caro Saverio e cara Valentina qual è l'augurio più bello che vi posso fare? Che voi possiate vivere la vostra vita matrimoniale nella fede nel Signore questo è l'augurio più bello che posso fare poi tutte le altre cose ecco sono marginali è come una cornice no? al centro ci deve essere il quadro che è Cristo e poi tutta la cornice ecco le nostre aspirazioni i nostri pensieri, le nostre volontà ma sempre al centro ci deve essere l'opera più bella che non è la cornice ma bensì il quadro 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 e la strade della guerra non è il quadro che non è la cornice ma bensì a E' bella. Valentina, ricevi quest'anello segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Saverio, ricevi quest'anello segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E con un coloroso applauso accogliamo. Grazie. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione